Incidente mortale sulla pesciatina, un pizzaiolo cingalese di 58 anni è morto sabato sera dopo essere stato investito da due auto all'altezza di Lunata. La strada è rimasta chiusa per diverse ore al traffico. Ora la cittadella dello sport a realtà si concretizza il progetto di riqualificazione della zona degli impianti sportivi del capoluogo Garpagnino, grazie ad un robusto finanziamento di oltre 700 mila euro. È vero, correre insieme si vince, presentata la marcia podistica non competitiva di sabato prossimo a promotrici Donne in Movimento, il gruppo che coinvolge le varie realtà del territorio porcarese. Calcio eccellenza, tau calcio da favola, cinquina al Castelnuovo sul sintetico di Alto Pascio, gli Amaranto spazzano via i gialloglu Garfagnini e salgono al terzo posto della classifica. Castelnuovo sempre più inguaiato in zona salvezza. Le mura tra Sosta, Recuperi e Jakubkova, rinviata anche la trasferta di San Martino di Lupari, le biancorosse di Urlaro devono giocare ancora cinque partite e due recuperi. Intanto la pivo slovacca è quasi pronta. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi, che apriamo con la cronaca e con il drammatico incidente, purtroppo mortale, che si è verificato sabato sera sulla via Pesciatina. Tutti particolari nel servizio di Luigi Casentini. Un pizzaiolo cingalese di 58 anni, Kankanan Vidana, è morto sabato sera intorno alle 20.15 dopo essere stato investito da due auto sulla via Pesciatina a Lunata. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima, mentre attraversava la strada davanti al Penny Market, sarebbe stato investito da un Audi A3 che viaggiava in direzione Pescia e poi sarebbe finito sotto le ruote di un Alfa 159 che procedeva in senso opposto. Inutili soccorsi riportati dai sanitari del 118 e della misericordia di Santa Gemma, oltre che vigili del fuoco. L'uomo è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. Trasportata all'ospedale di Lucca in codice verde, anche due persone che erano a bordo delle due auto, una più che altro per lo shock, l'altra per un leggero trama ad un arto. Un tratto di circa due chilometri dell'importante arteria della piana è rimasto a lungo chiuso al traffico. Sul posto sono intervenute un'auto medica di Lucca, un'ambulanza del misericordia di Capannori, ma anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e vigili del fuoco per estrarre l'uomo da sotto l'auto. Era stato inizialmente allertato anche il Pegaso, il cui intervento però, purtroppo, non è stato necessario. Ancora la cronaca, i carabinieri hanno arrestato G.I., le sue iniziali, 43enne residente a Pescaglia, pluripregiudicato, incolto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nei controlli presso l'abitazione dell'uomo militare hanno rinvenuto un bilancino di precisione, 40 grammi di tabacco misto a sostanza stupefacente tipo hashish e 70 grammi di sostanza stupefacente sempre tipo hashish. Al termine dell'udienza di convalida l'arresto è stato convalidato e l'imputato ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa, venendo poi rimesso in libertà. Aggiornamento sul coronavirus, nuovo caso a Carrara, ma questa persona, altri non è che il marito, della 65enne di Codogno che appunto era arrivata in auto a Carrara nei giorni scorsi, dove possiede una seconda casa. Per entrambi i coniugi, che non hanno avuto contatti con altre persone, si attende alla valutazione dei loro tamponi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. L'uomo di Pescia, il primo paziente guarito, continua ad essere trattenuto a scopo precauzionale all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Ed infine sono buone le condizioni di salute del 44enne di Torre del Lago, ormai da due giorni senza febbre, rientrato con positività da Bo, un comune del Veneto appunto anche nella zona rossa. Continua per lui l'isolamento domiciliare. Andiamo in Garfagnana, Castelnuovo, dove adesso la cittadella dello sport non è più un sogno, ma potrebbe diventare presto una bella realtà. Grazie all'importante finanziamento di mezzo milione di euro da parte del Ministero dello Sport e delle politiche giovanili e di alti 220 mila euro concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sul bando Impianti Sportivi 2019-2021, Castelnuovo-Garfagnana potrà davvero concretizzare il progetto dedicato alla cittadella dello sport e alla riqualificazione dell'area interessata. È uno sforzo ulteriore che stiamo facendo, un investimento di oltre 700 mila euro, grazie alla partnership fra il Ministero e la Fondazione Cassa di Risparmio, con uno sforzo importante anche del Comune. E naturalmente siamo attenti a tutte le discipline sportive, quindi stiamo dando un segnale a tutti. Castelnuovo sta migliorando la sua qualità delle infrastrutture sportive. Saranno una serie di interventi mirati ad aumentare l'esercizio sportivo nei giovani. Eccoli nel dettaglio. Il primo intervento che verrà realizzato sarà quello di spostare l'attuale campo in erba sintetica che è qui al Parco Dronero al Parco Danilo Boschi e su questo spazio verrà allargato il parcheggio con circa 40 posti auto in più. Siamo qui al Parco Danilo Boschi dove verrà spostato in questa area il campo in erba sintetica che viene rimosso dal parcheggio Dronero. Un altro intervento riguarda il Palazzetto dello Sport di Castelnuovo dove verrà rifatto completamente il fondo del campo con il parquet in legno e dove verranno completamente risistemati gli spogliatoi e dove verranno effettuati inoltre i lavori per abbattimento delle barriere architettoniche. Un ulteriore intervento molto importante sarà quello all'interno della piscina comunale coperta dove verranno portate le corsie da 3 a 4 il che permetterà anche di poter realizzare delle gare agonistiche. L'ultimo intervento relativo al progetto della Cittadella dello Sport è quello che permetterà il completo rifagimento della pista all'atletica all'interno dello stadio comunale Anessio Nardini di Castelnuovo. I garbi, le isole ecologiche fuoriterra che a partire dal 9 marzo andranno a sostituire la raccolta dei rifiuti filo strada in centro storico sono costantemente monitorati proprio per evitare casi di inciviltà e di abbandoni. Siamo andati a verificare, spiega la dirigente tecnica dopo quanto segnalato dal Comitato Vivere Centro Storico e per rispondere al Comitato Vivere Centro Storico la dirigente tecnica Caterina Susini ammette che questo è l'unico caso in cui qualcuno abbia lasciato dei rifiuti fuori dai garbi. Aggiunge ancora la Susini, non si tratta di un abbandono indistinto i rifiuti sono stati lasciati di fronte al contenitore apposito due cartoni di fronte al contenitore della carta e due sacchetti di organico di fronte al contenitore relativo. Inaugurato a Pisa, in largo Ciro Menotti il maestoso monumento dedicato a Galileo Galilei realizzato dallo scultore capannorese Gabriele Vicari in collaborazione con l'artista Armando Barbon. L'opera, la vediamo in bronzo, è alta 2,60 metri per un peso di quasi 3 quintali appoggiata su un basamento in marmo del peso di quasi 6 tonnellate per un'altezza totale di circa 4 metri quindi veramente maestosa. Il lavoro è durato circa 6 mesi. Presentata a Porcari la marcia podistica non competitiva Insieme si vince. Sabato mattina è stata presentata la marcia podistica non competitiva Insieme si vince di solito organizzata da Rotary Club Monte Carlo e della Piana di Lucca ma che in questa occasione ha pianificato l'evento con lo stesso comune di Porcari in particolare con l'assessorato alle pari opportunità. Ne sono infatti i promotrici, donne in movimento il gruppo tutto al femminile che coinvolge le varie realtà del territorio porcarese. L'iniziativa si terrà il prossimo 7 marzo a partire dalle 15 e 30. Alla conferenza stampa sono intervenuti i rappresentanti dei Rotary Club, l'Atletica Porcari ed alcuni membri di donne in movimento oltre alla consigliera con delega alle pari opportunità Francesca De Toffol. Donne in movimento e Rotary insieme si vince quest'anno uniscono le forze e organizzano la marcia podistica non competitiva a Porcari sabato 7 marzo a partire dalle 2 e mezzo. Vi invitiamo a partecipare e il ricavato della marcia verrà devoluto all'associazione AVO e a sostegno di alcune iniziative sul nostro territorio. Con la firma ufficiale si è costituita un'associazione temporanea di scopo termine tecnico per definire l'associazione florovivaistica interprovinciale un soggetto che unisce i comuni di Lucca e Pescia oltre alla stessa flora toscana e l'associazione dei florovivaisti del comprensorio di Pescia l'associazione florovivaistica interprovinciale sarà nelle intenzioni dei proponenti il soggetto referente del distretto e il capofila dei vari studi progetti, attività di pertinenza del distretto floricolo promozione e relazioni commerciali con altri mercati e ambiti di sviluppo. E con questa notizia si chiude la prima parte del TG Noi ci fermiamo per una breve pausa ma torniamo subito dopo con la pagina sportiva.